Ed eccoci qui ragazzi e ragazze come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex Prontissimo per continuare su One Piece Odyssey ovviamente in versione PlayStation 5 Come sempre vi ricordo date supporto sul mio canale YouTube Lasciate un like, un commento, condividete il gameplay Ma soprattutto iscrivetevi anche sul mio canale YouTube Quindi adesso possiamo continuare Io ho livellato giusto quel tanto che bastava In questa zona qui vedete avevamo degli scorpioni da affrontare Io qualcosina ho fatto Ma adesso credo che sia arrivato il momento di proseguire Credo, poi vediamo un po' quello che succederà Perché io sinceramente non posso sapere Al momento non posso assolutamente sapere Qui cosa abbiamo? Vabbè, qui non ho voglia di fare nulla per il momento Vai, io non so cosa troveremo qui adesso Verso la strada principale Supera il posto di blocco Cosa succederà? Vediamo eh Vediamo eh Cosa succederà? 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 Vediamo un po'? Voglio provare prima con attacchi fisici normali Senza usare magari abilità e compagnia bella Giusto per vedere il livello di potenza Giusto così Allora vediamo un po' Via E anche Diciamo che Nami Colpisce anche molto Aggressiva Sì Non subisco molti danni Quindi Eh vabbè Io credo che con Zoro Posso fare un bel Eh insomma Eh sì Un danno Consapevole Un danno Veramente ben fatto Allora vediamo un po' qui Ce la possiamo gestire qui la battaglia Vediamo un po' Chopper Eh Chopper ragazzi Si fa sentire? Chopper va veramente come si deve Eh Chopper Sai il fatto suo Sai il fatto suo Eh sì Il grandissimo Chopper Vediamo un po' Perfetto Ottimo così Credo che siamo Sulla buona strada Per una vittoria Quindi Non userò abilità speciali Ragazzi Perché sinceramente Non ne sento il bisogno Per il momento Non ne sento il bisogno Quindi Siamo abbastanza carichi Qui qui Siamo abbastanza Carichi Vediamo Poi voi sapete Che io comunque amo I combattimenti a turn Quindi Per me qui si va veramente Alla grande Vediamo un po' Vai Nami Ne sono abbastanza Qui di Di Marine Sì Ne sono abbastanza Ne sono abbastanza Perfetto Ce l'abbiamo fatta Credo Ah Ne mancano ancora Vai Zoro Chiudi la questione Chiudi la questione L'abbiamo chiusa Credo 4500 punti Esperienza Ragazzi Mamma mia Qualche bonus No Allora Vai Si sale di livello Ottimo Così Saliamo un po' Tutti di livello Con tutti questi punti Vabbè Diciamo tutti No ma Sì Sì E' certo, Rufy seguiamolo Seguiamoli Vediamo un po' la mappa qui dove Vabbè siamo vicini ragazzi quindi Però Vabbè andiamo dai Andiamo andiamo Ad energia insomma Non siamo messi Benissimo però io adesso Non è che posso Non posso Sinceramente Qui nulla Sinceramente ragazzi di perder tempo Ah aspettate aspettate un attimino Vabbè qui potenziamo Potenziamo dopo Sì Allora andiamo verso la strada Qui cosa abbiamo che luccica Profumo economico Abbiamo anche profumi E la Si è brutto forte lo sai Siamo arrivati A destinazione però qui Un'imboscata Abbiamo subito un'imboscata Vabbè Era prevedibile comunque Era molto Prevedibile Allora vediamo un attimino Fantastico ragazzi Demolizione totale 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 qui Allora fermi Togliamolo di mezzo ragazzi Togliamolo di mezzo Perché Secondo me Si sarebbero potuti presentare Dei problemi Quindi Abbiamo vinto Vabbè 2640 punti Perché abbiamo ottenuto Dei bonus Altrimenti Strada secondaria Del deserto Ma qui Ok Andiamo lì qui ragazzi Eh sì Chissà se avremo qualche nemico Da affrontare Eccolo qui Li ho appena chiamati Li ho appena chiamati Ragazzi Quindi Ed eccoli qui all'appello Vediamo un po' Vai Pazzesco ragazzi Un attacco Valori incrementati Per ok Devi star buono Devi stare buono Vabbè Diciamo che Dovrebbe stare buono Ma Insomma Allora Chi possiamo colpire Vediamo un po' Vai L'importante È incrementare i valori Qui eh È una cosa fondamentale Vediamo un po' Proviamo Mamma mia Mamma mia ragazzi Che potenza di Nami È Nami anche Anche molto potente Ma qui Chopper può dare il meglio di sé Quindi attenzione Chopper può dare il meglio Di sé L'ho detto io ragazzi Io ho detto Voi Dovete solo fidarvi Di quello che dico Poi Pirata B è in fuga No ma non fuggire Ma perché devi fuggire Posso sistemarti Avrei potuto sistemarlo Per le feste Vabbè Mille punti Vabbè Meglio di nulla Comunque sono Quindi Vediamo un po' Benvenuto nel negozio Di Yoisha Tanti rottami Tanto luccicanti Guarda Acquista Questo costa un po' Un tantino E quindi Vediamo un po' Anello punti vita Più 149 Attacco Più 114 Vediamo Spenderemo un po' Di crediti Forse Acqua di toto Qui Vediamo Perfetto Per adesso Ragazzi Va bene così Meglio Allora Vabbè Andiamo ancora Vediamo un po' Potenziabilità Formazione Ciurma Abilità Combattimento Abilità Esplorative Allora Fermi un attimo Qui Equipaggiamento Però queste qui Magari sono cose Che potrei fare Con un po' Più calma Ma è Però è anche Vero Vediamo cosa abbiamo Qui Attacco Più 114 Ma questo qui Che sto togliendo Cos'è Sembra uguale Insomma Ne abbiamo Allora Vediamo un attimino Vediamo un po' Ecco Azzoro Possiamo inserire qualcosa Fermi Vediamo Qui Perfetto Mentre Anami Vediamo un attimino Allora Punti vita Più 100 Li ho inseriti Ok Però un attimino Ok Ok Allora possiamo inserire Anche magari Vediamo Perfetto Perfetto Vediamo se possiamo Inserire Qualcos'altro Questo possiamo Metterlo qui Mentre Ok Bello il modo Bello il modo come si potenziano I personaggi Sì Devo essere sincero Allora Adesso faremo Chopper Perché non ha nulla E poi E poi magari penseremo Appena Inserirò Altri personaggi In battaglia Però per adesso La formazione Che porterò avanti È questa Ragazzi Non me ne volete Allora Via Vediamo Un po' Punti vita Ecco Vai anche con l'attacco Chopper Via E adesso Frammento Congelamento Agli attacchi Congelamento Via Vediamo un po' Cosa possiamo Inserire anche qui Ma sì Una difesa Più 60 Non guasta Va bene così Ragazzi Vai Allora Vediamo un po' Dobbiamo rompere qualcosa Qui Vediamo Semplice Adesso proviamo Un po' Tutte Le abilità Le cose Inserite Se comunque Vanno Vanno come devono andare Vediamo un po' Insomma Insomma Vediamo un po' Qui eh Qui dovrei ripristinare un po' Di vita Chopper lo vedo messo Veramente Lo vedo messo male Sì Questo è messo più male di Chopper Quindi Sono messi più male di Chopper Quindi Allora Valori incrementati Allora valori incrementati Bene Proviamo Valori incrementati Vediamo Nami cosa può fare Qui posso colpire forte Abbastanza forte Abbastanza forte No Chopper Devo ripristinare un po' Di vita Qui Vediamo se ho qualche pozione Qualcosa Allora Oggetti Vediamo Cosa Vai Chopper Nami ti dà una mano Meglio di nulla Meglio di nulla Comunque Sempre meglio di nulla Non fai il bravo Chopper Su Eh Zoro qui colpisce Colpisce veramente In grande stile Quindi Mi fai solletico Mi fai Vai Distruggiamolo Perché lì ragazzi Se vedete Ogni volta che attacco Qualcuno Fa le frecce In giù E in su Se fa su Significa che Posso fare più danno Con quel tipo di attacco Quindi Mi sembra di capire Che sia così Allora 1500 punti esperienza Più Un po' di bonus Nulla eh Vai Livello 24 Che bello Allora Che bello Il livello 24 Via Attacchiamo da dietro Renderemo un po' Il gameplay Un po' Combattivo Come giusto che sia Vi farò vedere Quello che ho capito Eh Allora Lui è Zoro No Vedete qui Le frecce vanno in giù Quindi Credo che non posso fare Danno Qui dovrei farne Un po' di più E infatti E infatti Bisogna osservare Quelle cose lì ragazzi Eh Bisogna osservarle Quelle cose lì Perché Bisogna fare le cose Come si deve Insomma Vedete Qui aumentano in su Quindi farò un bel danno Qui E infatti Con un attacco normale Senza usar le abilità E niente Quindi Allora Nami Vediamo un po' Via Distrutto Non è distrutto ragazzi Ve lo dico Ve lo dico è distrutto Ma Era molto prevedibile Vai chopper Mille punti esperienza Meglio pochi Che nulla Anche perché ragazzi Un po' bisogna livellare Eh Oh qui ci sono altre ossa È vero Ma abbiamo problemi più gravi Dico qui bisogna livellare Quindi Incontreremo nemici E anche se danno pochi punti Però Ragazzi Fanno Fanno comunque comodo Chissà se posso Ok Siamo arrivati al punto Dove posso ripristinare Un po' di vita Meno male Meno male Ottimo No non salverò qui la partita Ci mancherebbe Vai Becchiamolo da qui Becchiamolo Ok Vediamo Zoro Chi può colpire Vediamo No vedete Qui le frecce vanno in giù Quindi farò poco danno Vediamo un po' con un'abilità Cosa posso fare Vediamo eh Assolutamente no No Allora Vedete ragazzi Fa meno danno Ve l'ho detto Che poi comunque Sono quasi 400 Con un attacco Però Non è quello Non è la prospettiva giusta Di quello che avrei potuto fare Insomma Ecco qui Zoro Vediamo un po' Anche Zoro qui fa poco e nulla Fa poco e nulla Quindi Un attimino Fermi eh Fermi Allora Vediamo un po' Vediamo se con qualche abilità Posso fare un po' Di danno Fa poco danno Perché le frecce Comunque andavano Verso il basso Andavano verso il basso Ragazzi Quindi Ecco Mentre con Nami Eh no Le frecce non andavano Verso su Quindi Ho sbagliato A non provare ad usare Qualche abilità Però non fa nulla Vediamo un po' Ciò Ecco Ciò per fa bordello Ciò per fa bordello Ve l'ho detto Con Chopper Andiamo tranquilli Ve l'ho detta la cosa No Vediamo un po' qui Niente Proviamo Insomma dai Qualcosina abbiamo fatto Qualcosina abbiamo fatto Qualcosina abbiamo fatto Vabbè Chopper fa danno Ma tanto questo Si era ben capito Ragazzi Wow Wow Vediamo un po' Fantastico Nel mentre lì È comparso anche un messaggio Di un mio fan Grazie Eh sì 21 grammi Mi segue da Da molto molto tempo Grandissimo Allora Vediamo un po' Non salverò la partita Ma andremo avanti Vai Bye Noi Allora qui ragazzi sarà una battaglia veramente molto molto spero allora no qui non riesco a far danno è assolutamente però abbiamo le arti legame Sono nemici di poco conto ragazzi quindi io direi di vediamo un po' magari attacchiamo così eh ma il danno è poco il danno vabbè vediamo Chopper sta sanguinando Allora vediamo un po' eh Debole Debole Vai Debole però comunque con un'ottima resistenza ragazzi comunque con un'ottima resistenza comunque vediamo vediamo un attimo Allora Potenza Vediamo un po' Allora Nami vediamo un po' di fare un po' di casino qui eh Non avevo grandi pretese E infatti Non mi sono sbagliato più di tanto però dai possiamo Secondo me la battaglia possiamo vincerla in qualche modo eh secondo me possiamo Gestirla senza problemi La possiamo gestire senza problemi poi bisogna vedere e capire insomma Vediamo Ma certo Ma certo Siamo pronti a combattere qui eh Siamo pronti Allora no fermi tutti un attimino fermi tutti Proviamo E beh Bisognava buttarlo giù in qualche modo Carica di legame ok Fermi tutti Fermi tutti ragazzi Fermi veramente tutti qui Che qui vai Lui è debole Per quanto può essere debole Comunque ha avuto un'ottima resistenza per affrontare il mio attacco Però Però Proviamo eh Proviamo ragazzi Vai con il Thunderbolt E insomma abbiamo fatto danno perché comunque sono molti nemici Quindi Da un punto di vista bisogna attaccare in un certo modo ragazzi Bisogna attaccare veramente in un certo modo Vediamo un po' Vai Chopper Sono molto resistenti Sono molto resistenti Chopper è in difficoltà però Chopper è in difficoltà ragazzi Molto in difficoltà Qui è una sorta di boss fight Perché è un bel gruppo di Marines purtroppo Allora fermi tutti Arti legame Vediamo un po' Vai Fantastico 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 ragazzi Nemico sconfitto E ci mancherebbe Ci mancherebbe E ci mancherebbe Allora Proviamo Proviamo così Insomma Chopper Puoi fare Meglio Però adesso ha bisogno di energia ragazzi Ha bisogno Chopper ha bisogno di energia quindi Vai Ha bisogno di un 500 punti di energia per forza Compagno curato e rafforzato giusto Di nulla Andiamo avanti Qui dobbiamo vincere la battaglia Per i ringraziamenti poi ci sarà tempo Ci sarà tempo E modo per ringraziare Quindi Pensiamo ad affrontare questa battaglia che forse È la cosa più importante Ok Mi fa il solletico Vai Bisogna mandarlo giù ragazzi Bisogna mandarlo giù perché comunque Stiamo Sto subendo molti danni Vai Visto che è debole Mamma mia che attacco Mamma mia che attacco Nemico sconfitto Vai Ma questo adesso? E anche questo è sistemato E anche questo è sistemato Ne abbiamo altri Da sistemare comunque Quindi Ciò per sempre quello più in difficoltà ragazzi Ciò per sempre quello più in difficoltà Vai Visto che sei debole Arrivederci e grazie Vai Carica legame Vamos Io vedo messo male Chopper Deve riprendere un po' di vita Ma guarda lì per Non va giù per poco ragazzi Per poco Non andava giù Vai Chopper Mandalo giù È una soddisfazione È una soddisfazione Mandalo giù con Chopper Sì ma qui Non finiscono più Questi nemici ragazzi Non finiscono più Ditemi che quello è l'ultimo Ditemelo Ditemi che è l'ultimo Spero che era l'ultimo Perché altrimenti La battaglia qui È andata molto per le lunghe Mamma mia È andata molto per le lunghe 8100 punti esperienza ragazzi Cioè ma di cosa stiamo parlando Ok Molto bene Perfetto Cioè ma di cosa stiamo parlando Ma di cosa stiamo parlando Cioè ma di cosa stiamo parlando Cioè ma di cosa stiamo parlando purna Rivieduto Vivì Vivo T הם Vivo Bisikini App aquilo Cioè ma di cosa stiamo parlando E Quasi Siamo Ah Cioè ma di cosa stiamo parlando Allora ragazzi, vediamo un attimino Qui se abbiamo un punto di salvataggio Ok Allora Vediamo un po' Perfetto ragazzi Allora, il vostro diabotex può chiudere qui Un altro episodio per quanto riguarda One Piece Odyssey In versione PlayStation 5 Come sempre, in compagnia del vostro Formidabile diabotex Ragazzi, vi ricordo che se volete Se vi farà piacere Di dare supporto Qui sul mio canale YouTube Basta lasciare un like, un commento Condividere il gameplay E magari iscrivervi Sul mio canale YouTube Detto questo, vi ringrazio di cuore a tutti Vi do appuntamento ad un prossimo episodio Tranquilli La serie Oramai è ripartita E si va avanti Quindi, grazie di cuore a tutti E appuntamento ad un prossimo episodio Ciao Ciao